Buongiorno a tutti e ben ritrovati a uno speciale Focus Periferie per i famosi 11 comuni di cui stiamo appunto facendo il tour milanese di questi antichi comuni che hanno avuto nel 1923 l'annessione alla città di Milano. Quest'oggi siamo a Niguarda e devo dire con ospite d'eccezione perché prima di tutto cittadino di Niguarda in quanto la cittadina degli archivi di cui Francesco Bartelli è direttore risiede qua e quindi lei lavora a Niguarda. In più uno che ne sa di queste cose perché tutti i giorni ormai, ma chissà quest'anno quanti sono venuti a chiedere gli documenti sull'annessione. Assolutamente. È un bel anno però diciamo. Assolutamente è stato un grandissimo anno e devo dire che la mostra sull'annessione del 23 e in generale tutte le iniziative nei quartieri ha avuto grandissimo interesse. Il che vuol dire che in realtà poi chi vive un quartiere ha molto più interesse a conoscere la storia di quanto si pensasse. Infatti, velocissimo escluso, cittadina degli archivi, ricordiamo che cos'è e dove si trova. Cittadina degli archivi è il polo archivistico del comune di Milano che si trova in realtà a pochissimi metri da qua in via Gregorovius, quindi proprio nelle adiacenze del centro di Niguarda Vecchio e custodisce la storia documentale della città di Milano dal regno napoleonico fino ai giorni nostri. Tra questi tanti documenti che hanno a che fare con questa annessione. Perché siamo però a questo angolo? Lo lascio dire a lei direttore. Perché siamo davanti a questa cosa che sembra una delle tante case, delle tante costruzioni che possiamo trovare qua in Niguarda? Siamo qui perché questo era il vecchio comune di Niguarda che fu sciolto nel maggio del 1923 per un decreto dell'allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini. Successivamente nel settembre dello stesso anno ci sarà il regio decreto che decreterà l'annessione degli undici borghi alla città di Milano e poi nel dicembre dello stesso anno ci sarà il definitivo aggregamento di questi comuni e il definitivo scioglimento delle loro realtà comunali. Quindi il comune di Niguarda è realtà che già nel 1917 aveva tentato di aggregarsi a Comune di Milano. Questa è una storia particolare perché... Quindi il comune ha tentato di aggregarsi, quindi al contrario di quello che può succedere nel 1923. Le aggregazioni hanno in realtà una storia finanziaria alle spalle, nel senso che i comuni che erano magari più in difficoltà finanziaria tendevano a volersi aggregare alla città, quelli che invece avevano una gestione finanziaria attiva tendevano ovviamente a non volersi aggregare. Arriviamo ad esempio al comune di Baggio, dove c'è stato detto che insomma non era molto voluta bene questa annessione, non è stata accettata molto bene dai cittadini, qua invece? Il percorso delle annessioni è un percorso molto complesso che inizia addirittura durante il periodo austro-ungarico. Napoleone fece una maxi aggregazione di 35 comuni, quindi quasi tutto l'Interland, e fece la prima grande Milano capitale del Regno d'Italia. Gli austro-ungarici poi disfarono tutto quello che aveva fatto Napoleone, quindi si ritornò alla situazione del cosiddetto comune dei Corpi Santi. Cioè attorno alle mura storiche del centro di Milano c'erano questi che oggi sono quartieri della città, che erano un comune autonomo che si chiamava Comune dei Corpi Santi, che fu aggregato nel 1877. Rimanevano poi questi 11, che in realtà sono 14 borghi, perché abbiamo anche Lorenteggio, Ronchetto delle Rane, Triulzio, Morsenchio, che erano frazioni di altri comuni che poi sono state inglobate con un percorso un po' più complesso. Ricordiamoci il nostro Trenno, che sarà un altro dei comuni che andiamo a chiamare, si chiamava in realtà Trenno e Uniti, perché già qualche anno prima aveva aggregato dei piccoli borghi. Quindi in realtà viene ripresa energicamente intorno ai primi anni 10 del Novecento con quello che si chiamava Piano Fasana, che era un ingegnere che già alla fine dell'Ottocento aveva immaginato di aggregare questi comuni, perché ragioni fondamentalmente infrastrutturali, cioè Milano aveva bisogno di reti tramviarie, di reti ferroviarie, non poteva realizzarle se non inglobando questi comuni, che a loro volta avevano bisogno di queste infrastrutture. Questioni sanitarie, non dimentichiamo che nel 18-19 c'è l'epidemia spagnola, quindi l'idea di non avere fognature ambulatorie ospedali preoccupava la città rispetto ai borghi, e quindi l'estensione della rete sanitaria. Poi questioni finanziarie, molti di questi comuni erano in passivo, quindi speravano aggregandosi a Milano di risolvere questioni finanziarie. E' messo niente, però vedo. E' più o meno. Per i comuni sono sempre piangono miseria. In effetti sono stati cent'anni, però ci sono sempre finanziari, sanitari e infrastrutturali. Insomma, quindi in realtà questa aggregazione poi ha consentito la realizzazione di tutte queste infrastrutture. Niguarda in particolare già nel 17 aveva per varie ragioni, che non erano solo finanziarie, tentate di aggregare, ma le aggregazioni venivano respinte in quel momento perché non si era finanziariamente pronti. Cioè la città di Milano non era pronta ad aggregare questi comuni. Perché a Mussolini riesce questa operazione? Che già Caldara nel 17 aveva messo a verbale di consiglio comunale. Quindi era già nelle giunte socialiste in programma. A Mussolini riesce perché riesce a trovare i 90 milioni di lire che occorrevano per coprire le passività di questi comuni con un mutuo contratto con il credito commerciale. Quindi questa operazione riesce in realtà perché si trovano i soldi e anche perché, questa cosa evidentemente va detta, Mussolini non va per le leggeri, nel senso che decide che si aggrega appunto a fine della questione. Il comune che più in realtà farà questioni è il comune greco-milanese che non voleva sapere di essere aggregato. Ecco, svelo un piccolo retroscena da backstage. Poco fa, prima dell'intervista, il direttore mi era un po' conguardo e diceva ma insomma se vuoi sapere solo di Niguarda non mi sono preparato a dovere, alla faccia. Cioè insomma, meno male che non si era preparato a dovere. Sentite come si avviene la storia di Niguarda che continua comunque anche in altri luoghi importanti, quindi non solo municipio, ma insomma in quello che davvero si può rivedere come un vero borgo che ha anche ad esempio il suo centro e come tutti i borghi ha tutte le sue varie caratteristiche. E ora ci troviamo nella piazza principale di Niguarda, quello che poteva essere proprio considerato il centro di Niguarda, la piazza Belloveso con alle nostre spalle la chiesa di San Martino in Niguarda. Un nome che uno può pensare, ma strano, chiama la piazza San Martino e facciamo prima. Invece no, perché è legato anche questo, no? Alla città di Milano, andiamo direttore. Sì, Belloveso era uno dei capi sovrani dei Celti che popolavano Milano prima dell'arrivo dei Romani. Secondo alcune ricerche recenti parrebbe che intanto con certezza i Celti costruivano dei villaggi che erano circolari e pare che l'attuale Parco delle Basiliche, in centro vicino a San Lorenzo, fosse l'insediamento celtico milanese rotondo. Corso Italia era il cardo e il decumano del primo accampamento romano che venne costruito a ridosso del villaggio celtico. Perché i Romani nelle operazioni militari di colonizzazione poi costruivano i loro accampamenti che erano a scacchiera a ridosso dei villaggi celtici che erano circolari. Quindi se si guarda dall'alto la zona di Corso Italia, Parco delle Basiliche, si può vedere veramente l'insediamento, l'ipotetico insediamento circolare dei Celti e il cardo e il decumano dell'accampamento romano. Il fatto che Milano poi è rimasto anche un po' tonda, no, non c'entra quello è stato un caso. Beh, è uno sviluppo sicuramente in realtà più che è legato alle città mediovali italiane che hanno questo sviluppo. A ruota da bicicletta, no? Un po' così. Sviluppo ad estensione concentrica. Belloveso era appunto uno di questi grandi capi celtici. Prima parlavamo appunto di invece come questi 11 comuni, ma in realtà 14 borghi, mi ricordava prima, erano proprio dei veri e propri paesi. E questa è la testimonianza. Questa piazza lo testomagna perfettamente, anzi per fortuna negli ultimi anni è stata anche rimessa a posto e ritorna un po' proprio quell'area quasi di Borgo che si era un po' persa negli anni a venire. Milano è proprio caratterizzata da questa policentricità. Una parola che si usa spesso pensando alla città del futuro, ma in realtà noi ce la portiamo dietro già da 100 anni. Assolutamente. Quello che è emerso con grande interesse in questo centenario promosso dal comune è proprio che in realtà la città è policentrica storicamente, nel senso che è fatta di aggregazioni di borghi e di comuni che avevano, come in questo caso, una piazza, una chiesa, un comune. E quindi Milano è fatta di tanti piccoli centri storici che già, se vogliamo, hanno quel che di gentrificazione di cui tanto si parla oggi. Niguarda aveva poi una caratteristica, era piena di ville invece, no? Niguarda sì, aveva questa caratteristica, in realtà come anche per esempio Crescenzago, che ha il nome di Ager Crescensi, questo campo di Crescenzio, c'erano queste aree molto verdi di campagna dove venivano realizzate le cosiddette ville di delizia, cioè le ville estive delle famiglie aristocratiche che si spostavano qui normalmente nel mese di maggio e rimanevano fino al mese di settembre. Sbernavano a Niguarda. Sbernavano a Niguarda, stavano lontani dalla città e ospitavano, si ospitavano reciprocamente in queste ville. Qui abbiamo, proprio qui dietro, Villa Clerici che è una delle più belle rimaste, tra l'altro molto attiva anche culturalmente, Villa Trotti e poi qui c'era una villa che adesso è stata, ai noi, demolita per realizzare, per fortuna diciamo anche, delle nuove insediamenti abitativi, ma era tutta, diciamo, costellata da queste ville di delizia. La più famosa di tutte, la più antica, è la Bicocca degli Arcimboldi da cui prende il nome appunto Bicocca, anche se Bicocca era un'entità amministrativa separata da Niguarda. Cioè stare attenti perché qua, poi dopo, sennò se non è per gli abitanti, giustamente. La virtualità è fondamentale. Tanto che appunto Niguarda, ad esempio, aveva il suo stemma. Il suo stemma aveva la sua famiglia aristocratica, peraltro che erano i da Niguarda. Ah, ecco, ovviamente. I da Niguarda, che era una famiglia aristocratica che ha avuto nel 200 e nel 300 un peso assolutamente rilevante e lo stemma del comune di Niguarda, che è questo, che possiamo vedere qui, come vedete, in Araldica si chiama, è una palizzata nera in campo dorato e che, da alcune ricerche che abbiamo fatto, potrebbe nascere dal matrimonio tra questa Nè di Niguarda, che era l'erede donna di questa dinastia, e Filippo Dallatorre, che era Podestà di Milano. E lo stemma della torre era appunto una torre con sopra la palizzata in campo dorato. Quindi presumiamo che questo stemma della palizzata sia nato da una mutuazione dello stemma dell'unione tra i da Niguarda e i Dallatorre. Che questi borghi abbiano comunque una storia anche particolare, a volte indipendente anche dal resto della città, arriva fino ai giorni d'oggi quasi, perché Niguarda, ad esempio, ha una ricorrenza particolare, differente dal resto d'Italia, che è quella del 25 aprile, giusto? Assolutamente. Cosa succede a Niguarda il 24 aprile? Perché da Niguarda è partita la prima insurrezione armata contro il regime di Salò e contro la ritirata dei nazifascisti, dei nazisti. Quindi Niguarda ha gli ultimi martiri, tra l'altro, proprio, perché il 25 aprile, proprio qui dietro, furono trucidati alcuni partigiani. Quindi ha una storia partigiana importantissima. Favamo anche le donne di Niguarda, no? Assolutamente. Famosissimo è l'episodio della partigiana che fu uccisa in bicicletta mentre aspettava un bambino. La partigiana lì, che lo si chiamasse giusto, ecco. E qui c'è una sezione ampi, storica, fortissima, attivissima e ci sono, peraltro, delle immagini straordinarie di quei momenti in cui noi tendiamo a immaginare soltanto il lato drammatico di quei giorni. Queste fotografie, invece, mostrano il lato eroico, ma il lato anche entusiasta di quei giorni per cui c'è una foto bellissima dei partigiani armati con un telone, fanno questa specie di pranzo con quello che avevano e c'è un cartello con scritto abbiamo messo il telone perché ci aspettiamo l'acqua su un, scrivono proprio così. Quindi in realtà sia anche la testimonianza che c'era eroicità ma c'era anche tanto entusiasmo. Tanto entusiasmo. Le commemorazioni vanno avanti però, il centenario non finisce subito. Il giorno preciso è il 14 dicembre, giusto? Il giorno dell'annessione, no? In realtà il giorno strategico è il 3 di settembre che è il decreto reggio che aggrega i comuni. Ma poi diciamo quella che è... Decreto di cui immagino voi abbiate copia nell'archivio. Poi verrò a vederlo perché... Abbiamo molte copie ma poi sono faccende che poi si strascinano un po' perché per esempio alcune di queste frazioni vengono contese dai vecchi comuni. Per cui mi pare Morsenchio, Trivulzio, il Ronchetto delle Rane, è famoso l'episodio del Ronchetto delle Rane perché il Ronchetto delle Rane viene restituito al Comune di San Donato dopo il 23 e rireclamato nel 1925 dal Comune di Milano. E c'è pare un episodio famoso di l'assessore delegato all'epoca che in una lite con il sindaco di San Donato disse da Mindre Runchetto delle Rane. Questa è una frase che ha passato un po' la storia per dire che poi insomma c'è un continuo ricomposizione di questo mosaico amministrativo ma nel 1925 si chiude definitivamente l'aggregazione. Ovviamente tutto questo è super testimoniato dai migliaia di documenti che avete all'interno dell'archivio. Sì perché al momento dell'aggregazione tra il 23, 24, 25 perché poi insomma noi adesso diamo delle date. Adesso faccio una domanda. Quanti chilometri lineari? Ha visto il direttore imparato? Un cento chilometri lineari. Ha imparato, non mi ha imparato. No, diciamo che noi diamo delle date precise perché ci piace l'idea della commemorazione. In realtà sono processi lunghissimi da tanti punti di vista. Nel 24 ci sono le elezioni amministrative per il Comune di Milano che vedono la vittoria di Mangiagalli con una componente fascista all'interno della maggioranza e i comuni annessi votano ancora in maniera separata. Ci sono in archivio i dati delle elezioni in cui si vede evidentemente che c'è proprio il sorpasso della componente fascista rispetto a quella socialista in questa tornata amministrativa perché questi comuni votano ancora in maniera separata. Ci sono alcuni comuni come Musocco dove il sindaco cessato era uno che aveva fatto la marcia su Roma quindi lì c'è molto entusiasmo in questa annessione. altri comuni socialisti che non vedono questa annessione in maniera così entusiastica. Interessante per vedere però come questi dati possono anche spiegare meglio poi anche il futuro di certe zone. Musocco ad esempio c'era una componente famosissima c'era un circo ad esempio di destra famoso a Milano ad esempio quindi insomma non era un caso forse che fosse lì. Poi Musocco per esempio ha questa vocazione cimiteriale che tutti conosciamo che è quella del cimitero maggiore ma perché? In realtà perché lì dei sette cimiteri che poi all'interno della città si ricostituiscono nonostante l'edito di Saint-Cloud che è quello che aveva con Napoleone spostato i cimiteri fuori per la verità Maria Teresa aveva già molto prima di Napoleone prescritto lo spostamento dei cimiteri fuori dai centri abitati ma Milano in queste operazioni di continua aggregazione ingloba i cimiteri dei comuni o dei borghi che aggrega e quindi più o meno al 26-27 Musocco viene scelto come grande cimitero che ri-ingloba i sette cimiteri che si erano ricostituiti all'interno della città. Perché c'erano sette cimiteri all'interno si ricorda qualcuno delle zone? Più o meno coincidevano un po' i navigli avevano loro insomma sì. Insomma queste sono le storie degli undici comuni io voglio approfittare se volete in conclusione io già la ringrazio tantissimo per l'ennesima volta in cui ci ha dato tanto tanto sapere insomma altro che wikipedia e quelle robe cittadella archivi andate e salvo tutto vi aspettiamo infatti come funziona? Uno può richiedere l'accesso agli atti? No, l'accesso agli atti funziona attraverso varie procedure ma se volete visitare cittadella è sufficiente passare in cittadella in via Gregorovio si può riscrivere una mail a cittadellaarchivi chiocciolacomune.milano.it noi abbiamo poi dal mese di novembre riprenderà la mostra dedicata al centenario del 1923 che rimarrà fino a primavera dove potrete vedere i documenti di tutti gli undici bordi aggregati compreso l'editto papale l'editto Mussoliniano i manifesti e i telegrammi e tra l'altro lì si può vedere una curiosità nel 23 quando c'è la prima aggregazione c'è un telegramma firmato da Mussolini in cui Mussolini dice perentorio dovrà esserci un unico bilancio comunale non ci sarà aggregazione proprio perché la questione finanziaria era centrale ecco nel 26 nella documentazione di Baggio invece si può vedere che ormai la dittatura prende piede lui non si firma più Mussolini ma si firma con una M che rimano tre stanghette in basso e ormai lui si firma come M l'uomo della provvidenza insolito insolito